Il 2012 volge al termine. È stato un anno importante, ricco di avvenimenti nel corso del quale ho avuto modo di confrontarmi con voi, soprattutto attraverso i social media, ormai strumento irrinunciabile per la comunicazione. Ci aspetta un anno altrettanto intenso, un nuovo anno di stretta collaborazione e di amicizia tra i nostri due Paesi. Da parte mia e dell'Ambasciata, tanti auguri di buone feste e di buon anno a tutti. Arrivederci nel 2013. Grazie.